Sono Angelo Camesasca, direttore tecnico di Wisman Engineering. In questo video vi presento il corso che si trarà in presenza dedicato ai cogeneratori Wisman. Durante il corso analizzeremo brevemente la possibilità di accedere alle leggevolazioni fiscali e ai certificati bianchi per gli impianti di microcogenerazione. Durante il corso verrà presentato un caso pratico di impianto di cogenerazione ad alto rendimento, in ambito sanitario, realizzato con cogeneratore VitoBlock di Wisman. Analizzeremo anche una simulazione di fattibilità per valutare l'attuale ritorno di investimento per il cogeneratore. Clicca sul link ed iscriviti subito. Ti aspettiamo!